Chiama il blocco di Yang, esce dal blocco, Yang fuori, vedete il suo tiro da tre punti, eca su, Bucarelli, Bucarelli trova ancora Samuel Yang per questo suo tiro, abbastanza, dire questo, in più in transizione intensiva è difficile accoppiarsi in maniera corretta. Ancora Yang, doppio di Marangou fuori per Samuel Yang, il tiro di quest'ultimo dai 6.75, quasi raddoppiato, la palla va a Samuel Yang, lui dice vado a tirare da tre.